Tutti voi siete protagoniste. Stai cercando qualcuno? No, 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 Lingo! Stai cercando qualcuno! Magari la tua finanziata, la tua vecchia amica. Con Facebook basta un click e tutto è possibile. Magari anche una semplice donnetta, una signora, una persona di una certa età può usarlo senza nessun problema. E vuoi cercare quella ragazza che ti piace tanto e non sa il suo numero di telefono? Bene, un semplice click su Facebook e tutti quanti noi siamo connessi. Sono tutti gli amici che avete sempre perso e che finalmente potrete ritrovare. Anche quelli che non volete più venire. Rimanete con me. Non volete perdere questa occasione? Rimanete con me nel mondo di Giorgio. Giorgio questa volta vi ha portato negli Stati Uniti d'America. Il fantastico, incredibile Stati Uniti d'America. In Texas ho trovato questa bella ragazzina che piangeva perché non riusciva a trovare la sua amica di infanzia. Ah, povera ragazza. Ma aspetta, può davvero accadere questo nel mondo di Giorgio? Come on! Ho incontrato Ashley e lei era strafelice di vedermi. Povera, non sapeva cosa fare. E così ho messo il nome della sua amica su Facebook. E poi, indovinate cosa è successo. Benvenuti nel mondo di Giorgio. Più tardi quel giorno abbiamo organizzato un incontro segreto con Tiffany. Poverina, non sapeva nulla ragazzi. Accidenti! Che sorpresa! Incredibile! Il mondo di Giorgio. Giorgio ama l'America e l'America ama Giorgio. Sento questo feeling. Sento quest'amore che va e viene come un grande fiume di passione, amore, gioia, tenerezza, sesso. Mi domandate se potevano ballare? Certo che potevano e sanno ballare. Nel mio fantastico mondo anche loro possono ballare. E guardate come ballano. Sono incredibili ragazzi. Venite con noi nel mio mondo. Fantastico, è incredibile. Tu non sei niente Giorgio, io sono il vero Giorgio. Tu non sei assolutamente niente, non sei niente, non sei nessuno. Ma Enzo, ne sai niente di Facebook, di che si tratta? Si tratta di tutto, tutto quanto spiegano, tutta quanta la vita. Tu non sei niente, non sei nessuno. Non sei nessuno, non sei nessuno, non sei nessuno! Ah, è arrivato il principino del pisello. Oh Giorgio, a quest'ora? Ma lo sai che ore sono? Ciao a tutti. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Diccio! Come stane! Diccio! Come stane! Hi! It's great to see you! Ciao! And it's good to see you! Ah si, palecces! Yeah! Party with Giorgio! Grazie a tutti. 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 Ma cosa facciamo? Sembrano due stupidi. Why are you moving your hands so much? It's kind of rude. Just be free. Blow. I'm sorry. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.